Si comincerà dal programma della coalizione che ha vinto le elezioni, quindi il programma che il Centro Destro Unito ha presentato agli elettori. Maggiore sicurezza, attenzione agli sbarchi, reimpatri, minori tasse sul lavoro, minori tasse sulle imprese per far ripartire l'economia del nostro Paese. Questa è la bandiera che abbiamo proposto agli italiani, questa riteniamo sia la ricetta giusta per far ripartire il Paese. Se il Movimento 5 Stelle, come ha fatto per le principali istituzioni di garanzia del Paese, sarà disposto a dialogare in Parlamento, credo che ci sia la strada per poterne ragionare. Dopodiché è abbastanza ovvio che i programmi sono lontani, che ci sarà un lavoro di lima e di cesello molto complesso per trovare un accordo e poter insediare un governo che possa vedere il Centro Destro e i 5 Stelle collaborare. Però credo anche che se i 5 Stelle scendano dalla loro astronave, dove sono rimasti volteggiando sulla politica e isolandosi dal mondo negli ultimi cinque anni per mettere i piedi nella terra reale, cominciano a pensare che quel 33% di voti che hanno preso debbano essere spesi per qualcosa di utile al Paese, ebbene venga, mi sembrerebbe assurdo non dialogare con un movimento che rappresenta un terzo dell'Italia. Grazie Grazie